Dolcetti biscotti gadget con il logo della squadra Amaranto. Ecco i doni che sono stati consegnati da una folta delegazione della società sportiva Arezzo in pediatria e in ostetricia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Doni in vista del Natale che vanno a rallegrare i bambini e le mamme durante la loro degenza in ospedale. Il gruppo Amaranto, che ha visto la presenza dell'allenatore Alessandro Dalcanto e del direttore generale Ermanno Pieroni, è stato accolto nella hall del San Donato da Massimo Gialli, direttore dell'ospedale, e da Marco Martini, direttore della pediatria. Dopo essersi tutti riuniti nella sala della ludoteca, i doni sono stati consegnati nelle mani di bambini che hanno ringraziato con grandi sorrisi. Grazie per questo splendido gesto, hanno dichiarato Gialli e Martini. Non è la prima volta che la squadra di calcio dell'Arezzo viene a trovarci con dei doni. Siete un esempio per tutti, non solo perché rappresentate la nostra città, ma perché anche noi qui abbiamo ogni giorno delle partite da affrontare, quelle della salute dei nostri piccoli pazienti. Ha parlato poi il capitano dell'Arezzo Nello Cutolo. Le vostre partite, ha detto, sono sicuramente più importanti di quelle che giochiamo noi e siamo felici di portare qualche sorriso in corsia, soprattutto quando si tratta dei bambini.